Grande paura la scorsa notte a Petriano, in provincia di Pesaro e Urbino, per un grande incendio che ha coinvolto una palazzina situata in via San Martino. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto poco dopo aver ricevuto la chiamata d'allarme intorno alle ore 21. Con loro anche i carabinieri e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato all'ospedale di Urbino, per tutti gli accertamenti del caso, le due donne residenti nell'appartamento in cui le fiamme hanno avuto origine. Nessuna grave conseguenza per le due, che però avrebbero riportato alcune leggere ustioni e inalato, in parte minima, i fumi generati dall'incendio. Insieme a loro sono state evacuate circa altre 10 persone. I danni che hanno interessato diversi locali della struttura sono molteplici. In tutto, compresa l'abitazione da cui è scaturito il rogo, sono stati dichiarati inagibili 5 appartamenti. Ancora incerte in fase di studio invece le cause e la dinamica che hanno generato le fiamme. Grazie a tutti! Grazie a tutti!